Sono diminuiti del 5% su Bari e del 2% a Brindisi i passeggeri di aeroporti di Puglia nel 2013. 5,2 milioni da gennaio a dicembre a fronte dei 5 milioni e 400 mila del 2012. A limitare i danni della crisi economica e del tracollo di Alitalia ci hanno pensato gli arrivi internazionali che hanno registrato un aumento record, l'11% su Bari e il 2% a Brindisi. Le perdite di clienti sui voli nazionali invece sono state rispettivamente del 7 e dell'8% con un crollo almeno 12% segnato ad inizio anno. L'inversione di tendenza dall'estero è partita da maggio ed è continuata fino a dicembre. Al caro Luitila il 33% dei 950 mila stranieri è arrivato dalla Germania, il 14% dal Regno Unito e il 10% dalla Francia. A Brindisi invece il 29% dei 310 mila clienti esteri è arrivato dalla Svizzera, il 18% dall'Inghilterra e il 13% dalla Germania. Tra le rotte più gettonate nei due scali il Bari Monaco, l'Isiget Bari Milano Malpensa e Bari Ori al Serio su Bergamo di Ryanair. A Brindisi i collegamenti con Bologna, Venezia e Linate. L'obiettivo della società aeroportuale pugliese è di potenziare il taglio delle linee nazionali dovute alla crisi all'Italia. Sia da Bari che da Brindisi abbiamo rinforzato le tratte su Roma e quindi crediamo che anche queste ultime iniziative ci permettono di chiudere con questo straordinario recupero il 2013.